Musica 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 E' stata abbandonata in un monastero e non si sa se sia stata per trascuratezza delle suore o per eventualmente sventatezza della fanciulla, fatto sta che è incinta di 4 mesi. Madonna Lucrezia, io so perché siete venuta, perché ho parlato con Nisha e mi ha detto quello di cui avete bisogno. Io ho letto i testi sacri, ho letto la Bibbia, ho cercato per ore quello che può servire al nostro caso e ho trovato quello che ci serve. Speri che cosa? Ma vai no? Ma da solo voi? Che cosa vuoi che ci andiamo in due? Avanti vai, resterà un giro qua in modo che lei non possa vedere. Speri che cosa vuoi che ci andiamo in due? Avanti vai, resterà un giro qua in modo che lei non possa vedere. di donare, in grazia di Dio, 300 ducati. Oh merda! Ma chi si è? Chi va là? Avanti state caro, non siamo noi. Ah, siete voi? Se non vi avessi riconosciuto subito, vi avrei preso a colpi di spadino. E tu sei Ligurio, vero? Sì, sì. Ah, ecco, bravo, bravo, bravo. E questo è il maestro Callimaco? Proprio lui. Ah, per bacco, si è camuffato proprio bene. Sì, io ho anche fatto mettere due gusci di noce in bocca così non lo sei riconosci neanche dalla voce. Ecco, sei un ignorante. Perché scusate? Ma perché non l'hai detto anche a me? Mi sarei messo anche io due gusci di noce in bocca appena essere... è molto importante non essere riconosciuti dalla voce. Ecco, mettete qua. Ma cos'è? Cos'è? Che schifo! Che sei Dio! Il nome del padre, il figlio, il spirito, tanto! Che sei Dio!